Bella a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video Io sono Gianluca e oggi stiamo nel vlog numero 5 Come vedete imparate ai differenti speciali Tipo, ve ne faccio vedere uno Oppure altri Vabbè, comunque il mio preferito è questo Qua, qua Ecco, è praticamente come una cittura Però, così è a caso In questo video volevo dire solo che Scusate se non ho continuato la serie di Minecraft in questi giorni Perché dei miei amici mi hanno fatto un casino Sul mondo che arrivo là E ho dovuto un po' ricostruire tutto Perciò ho perso un po' di tempo Comunque non ho ancora finito Credo che o domani o qualche altro giorno ci sarà Quindi non vi preoccupate Non ci vedete Ehm Ehm Volevo dire solo questo oggi Ah no, è vero Ehm Volevo dirvi anche che ho deciso di non continuare la serie di Call of Duty Perchè praticamente non mi piaceva molto Ehm Poi era un po' nuiosa Ehm Volevo dire anche se la volete Scrivetelo nei commenti Ehm Se la devo continuare o no Ehm Direi che per oggi a tutto Ehm Bella ragazzi Ah Mi sono dimenticato Mettete un mi piace sotto Ehm A questo video Ehm Iscrivetevi al canale Commentate Ehm Condividete il video Per farlo vedere ad altri Bella E questo Ho veramente finito Ora Bella ragazzi